Frate Alberto, si ricomincia, è lei da dove riprende la sua attività? Sì, riprendiamo timidamente, ce n'è bisogno perché in questi incontri preparatori che stiamo facendo abbiamo trovato le persone e naturalmente anche noi come arrugginiti quest'anno e mezzo e più di mobilità ci ha come bloccato. Allora bisogna riprendere, adesso alla metà ottobre riprendiamo con un incontro sull'Angella, poi vediamo, e tutto dipende da questa Covid e come va avanti, di riprendere l'attività, comunque c'è un grande desiderio di riprendere da parte delle persone. E di incontrarsi, di rivedersi, ma voi metterete in atto tutte le misure che sono state previste dal governo, cioè Green Pass per gli incontri in presenza, insomma come vi regolerete? Sì, certamente, il Green Pass in assoluto, anche perché chi viene a un incontro sull'Angelo si presume che abbia una certa sensibilità, un'attenzione al bene comune, quindi i no, no tutto, no questo, no quest'altro, se vengono sono sopportati, ma non sono graditi. E il tema dell'incontro del 10 ottobre quale sarà? Siccome appunto siamo stati fermi così, riprenderò come la lettura del Vangelo, cos'è un Vangelo e come si legge, perché la lettura del Vangelo può essere equivoca, uno che non ha una preparazione così, lo può prendere quasi come un libro di favole, angeli che volano, dimoni dispettosi, Gesù che cammina sulle acque, eccetera. E una persona può rimanere perplessa invece a scoprire il linguaggio degli evangelisti per vedere il Vangelo che palpita ed è attuale. Ma lei Fatemaggi ha già fatto un paio di incontri in presenza, ha cominciato a muoversi, insomma è uscito da Montefano sfidando comunque quello che resta della pandemia, speriamo sia poco. Sì, venerdì ad Ancona era il festival della storia, il tema era naviganti e ho chiesto come tema quello della parca di Gesù, che è importante ed è attuale. Ci siamo mai chiesti come mai nei Vangeli ogni volta che Gesù dice ai discepoli andiamo all'altra riva, puntuale si scatena la tempesta. Io dico ma Gesù potevi guardare un po' il tempo per vedere com'è possibile che ogni volta che dice andiamo all'altra riva si scatena la tempesta, perché l'altra riva è la terra pagana. E che cos'è la tempesta? Sono i discepoli che non hanno nessuna intenzione di andare a condividere con i pagani, con gli impuri, il messaggio di Gesù. Quindi è un tema attualissimo dell'accoglienza e dell'altro. Però lei è stato anche a Bologna, mi risulta, ho letto su suo profilo Facebook, lei è attivissimo sui social. Sì, a Bologna era la conclusione della tre giorni di Alermo di Ronzano, il tema era Io sono, che ha iniziato Riccardo Perez, e il terzo giorno, quello conclusivo, Io sono, la risurrezione della vita, con l'episodio importantissimo, una volta compreso, della risurrezione di Lazzaro. Tanto per rimanere in tema di eventi, so che è stata scoperta a Milano una targa dedicata a Carla Fracci e il marito Beppe Menegatti, che peraltro è stato da lei quest'estate, l'aveva anche invitata. Insomma, com'è andata? Sì, mi aveva invitato per andare su per la scoperta di questa lapide, nel quartiere dove la Carla, un quartiere di periferia, ha vissuto per 15 anni, ma non potevo muovermi da qui perché non c'è Riccardo, mi è impossibile, però ci saranno tante tante altre occasioni per ricordare e celebrare questa donna straordinaria, quindi senza altro gli ho detto che le prossime volte, se lo so con anticipo, mi organizzo. Comunque l'aspettiamo qui perché ha detto che ritornerà con Giovanni Inutti, il musicista che ha musicato quel testo del funerale. Che ha scritto lei? Riccardo, è Riccardo Perez, è il suo confratello che in questo momento è andato a Lourdes, lei c'è stato prima di Riccardo, il prossimo libro sarà dedicato a Bernadette Subiru, insomma diciamo che tutta Montefano sta cominciando ad andare sui luoghi. Siamo tutti presi da Lourdes perché sto scrivendo questo libro su Bernadette Subiru e viene fuori una donna straordinaria. Io mentre scrivo mi devo fermare dall'emozione perché mi trovo tra le mani una donna di una libertà, di un'autonomia, di un'audacia, di una spregiudicatezza, altro che la pastorella. Allora sono andato perché dovevo fare delle ricerche e adesso è andato Riccardo a continuarle anche lui. Il suo confratello insomma a completare il quadro e invece Carla Fracci insomma ricordiamolo è stata diciamo la protagonista insomma della dedica del suo ultimo libro, Buote risposte, come reagire quando la vita ci interroga e quindi insomma diciamo un percorso che continua a distanza con una donna straordinaria che ha ballato tutta la vita ma insomma anche lei in fondo avrebbe voluto fare il ballerino, ricordiamolo. E invece invece diciamo la danza si è spostata sul Vangelo, io ho letto una sua riflessione sul Libraio dove lei scrive puntualmente il Libraio.it che mi sembra di grande attualità. Leggo, basta con la presunzione, l'arroganza e i deliri di onnipotenza. Ecco, quando ho scritto questo articolo a che cosa stava pensando? Siamo in tema di elezioni, allora a me è venuta in mente anche tutta questa prosopopea di tanti politici, insomma non faccio distinzioni adesso di campo, però in generale sento dei toni piuttosto forti. Ecco, l'arroganza, la presunzione, l'onipotenza è una sorta di peccato originale che viene denunciato già dagli evangelisti. Gesù ha un problema di comprensione con i discepoli ma non perché siano sordi o duri di comprendogno, perché tra di loro mentre lui parla di amore generoso che si fa servizio, loro stanno discutendo su chi è il più grande e Gesù non accetta che nella sua comunità ci sia qualcuno il più grande, cioè colui che si mette al di sopra degli altri e dice se qualcuno vuole essere il primo, non il più grande, il primo che è il più vicino a lui e chi è il più vicino a lui? Quello che gli assomiglia nel comportamento. Allora l'ambizione, la vanità è già presente, come denuncia nei Vangeli, è presente purtroppo nella Chiesa, basta pensare a questi ecclesiastici scondizolantico, e nella società civile, ma è una denuncia della pochezza e della miseria delle persone. Più hai bisogno di orpelli, di abiti, di distintivi, di titoli, più stai smascherando te stesso, denunci che sei una povera persona e hai bisogno di tutto questo per ricoprirti. C'è nel Vangelo la denuncia che l'evangelista Luca fa del ricco, quello dell'episodio di Lazaro, lo descrive con una pennellata. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di visso, la povertà interiore la mascherava con l'uso esteriore. Quindi è un monito, un campanello d'alarme attenti a queste persone. Attenti, io ho visto anche il commento al Vangelo dell'ultima domenica, insomma, che comincia con questa frase, Gesù insegna ai discepoli come liberarsi dai demoni. Questi demoni chi sono? E noi ci dobbiamo fare i conti anche oggi. Il demone è una realtà che è esterna, ma che tu accogli e condiziona la tua vita e non ti rende più libero. Lo dice anche il linguaggio popolare, hai il demone del gioco, hai il demone di questo, hai il demone di quell'altro. Quindi qualcosa che è di esterno, non ti lascia dall'interno, ma che tu accogli e che ti impedisce di ragionare, ti impedisce di essere libero. Allora di indemoniati oggi ne troviamo molti, sia ecclesialmente, sia a livello sociale, a livello politico. Vedi quelli che non ragionano e di fronte a una realtà che è talmente evidente, vanno avanti con una ideologia, basta pensare, adesso lo vediamo, la tragedia di quelli che non solo non vogliono vaccinarsi, ma impediscono ad altri di vaccinarsi. Perché c'è questa ideologia del pericolo, del vaccino, c'è una calamita, c'è qualcosa che ci hanno messo, ma come si può essere più idioti del genere? Eppure ci scredono. Questi sono gli indemoniati che è compito nostro liberare. E visto che siamo sull'attualità, insomma il Vangelo a quanto pare ci riporta sempre a temi dell'attualità. Qual è la notizia di questi giorni che l'ha più colpita? E' di oggi, sei morti nel lavoro. È una strage da quando è iniziato l'anno e c'è la ripresa dei lavori, per fortuna, ma è una strage perché alla base di ogni tragedia, di ogni ringrazia, c'è sempre l'interesse, il profitto. Non ci sono i sistemi di sicurezza per mandare il macchinario più veloce, produrre, 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 e poi se muore un operaio non è mica la fine del mondo, c'è la fila dietro la porta di persone che vogliono prendere il posto. Quindi sistemare e mettere a norma un macchinario costa, se muore un operaio va bene, si fa un po' di lutto. Questa è la grossa tragedia che c'è già nei Vangeli. Quando Gesù, ritorniamo agli indemoniati, libera l'indemoniato e i demoni vanno in una mandria di porci, se ne affogano duemila nel lago, un danno enorme, ma dopo l'indemoniato ritorna sano. Ebbene, i mandriani mica applaudono, bravo Gesù che ci hai liberato questa persona, gli dicono Gesù ci costi troppo caro, per favore vai a fare i tuoi miracoli da un'altra parte. Allora la domanda è questa, quanto siamo disposti a pagare per la libertà la sicurezza della persona? Quindi alla base di ogni tragedia c'è sempre il profitto per produrre di più a scapito del bene della persona. Frate Maggi, lei ha proprio anticipato un tema che io avrei sviluppato nel corso di questa nostra chiacchierata, perché il 10 di ottobre è proprio la giornata nazionale promossa dall'AMNIL per tutte le vittime del lavoro. Quindi una tragedia che come vediamo si rinnova tutti i giorni, che l'AMNIL ricorda in una giornata che si svolgerà su tutto il territorio nazionale, in particolare in Liguria. Ma che cosa vogliamo dire poi alle famiglie di queste persone che si vedono orfane di un marito, di un padre, di una persona cara, insomma c'è uno spot che l'AMNIL sta promuovendo veramente toccante, in cui si vede un figlio che va sul cantiere del padre, che però va avanti, il lavoro va avanti e il figlio invece ha perso un genitore. Quindi si può fare a meno di questo operaio, però in fondo l'attività va avanti, non curante e anche gli altri operai vanno avanti perché hanno bisogno di lavorare alle stesse condizioni, quindi senza sicurezza. Cosa vogliamo dire a queste persone? Credo che dai Vangeli e anche dal sapere umano venga fuori questa realtà. Purtroppo non si può rimediare al male passato, al danno fatto, non è possibile rimediare, però è possibile modificare il comportamento nel presente. Quindi ci sono state queste tragedie tremende sul lavoro, allora tutto l'impegno, anche se costa, chiaramente costa, costa perché non succedono più, non si deve morire nel lavoro. C'è, mettiamoci anche a volte un po' di imprudenza anche da parte delle persone, minimo, ma imprudenza perché spesso sono pressati per andare più in fretta, per lavorare più agevolmente, quindi non mi metto il casco perché così sono più comodo, eccetera. Ma ripeto, alla base di tutto c'è la convenienza, il grande rivale, il nemico di Dio. Allora non si può rimediare al male fatto, ma si può modificare il comportamento presente. La salute dell'individuo al primo posto come valore non negoziabile. Fred Alberto, direi che il messaggio è molto chiaro, insomma, quindi anche chi resta può essere testimone per altri affinché questa mentalità cambia, insomma, e quindi trasformare una cosa bruttissima, una cosa orrenda in una risorsa anche per chi poi continuerà a lavorare, insomma, quindi tutto il male in fondo deve restare così, ma può essere anche una opportunità, è una brutta parola, però insomma per poi trasformare, diciamo, quello che di negativo c'è in qualcosa di positivo per il futuro. Sì, certamente, questo bisogna impegnarsi e ripeto, io ricordo qui, una nostra esperienza anni fa dovevamo fare dei lavori di ristrutturazione e noi controllavamo, esigevamo, che gli operai andassero impragati e loro stessi, gli operai, protestavano, dicevano, ma no, per Alberto, se così ci mettiamo più e viene a costarne più, ho detto, voi non preoccupatevi del costo, il costo dipende da noi, non ci interessa, ma la vostra salute, la vostra sicurezza viene prima di tutto, quindi erano gli stessi operai che volevano togliersi l'imbracatore, i caschi perché così lavoravano più agevolmente e tutto di nuovo ritorna in lato economico. Quando l'economia prevale sul bene della persona, ecco questo nei Vangeli, questo è il diavolo, questo è il demonio da cui bisogna liberarci. E quindi insomma ognuno di noi può fare la sua parte. Frate Alberto, tra gli incontri di questi giorni ce n'è anche uno che si intitola Providenza e Libero Arbitrio, lei farà un confronto insomma con un filosofo palermitano, Giuseppe Savagnone, insomma su questo tema. Allora, la Providenza, che cosa dicono i sacri testi? Dunque la prima volta che senti pronunciare la parola Providenza ero molto piccolo nei racconti di papà. I miei, io sono nato nel 1945, quindi appena terminata la guerra, non avendo casa, gli alloggi ad Ancona c'erano stati bombardamenti e vivevano in coabitazione con una ricca possidente terriera. Erano porta a porta. Ebbene, tutti i lunedì dalla campagna arrivava il contadino che davanti alla porta di questa signora depositava sacchi di farina, di patate, uova, eccetera. E questa signora che era molto pia, molto devota, sempre con il rosario in mano, quando vedeva papà dice, Alfredo, ha visto la Providenza che si è ricordata di noi? E una, due volte. Un giorno papà ha sbottato, ha detto, ma sta Providenza non sbaglia mai, porta, siamo vicini, perché sta Providenza va sempre nella porta tua e mai della mia? Allora, che cos'è la Providenza? Non è qualcosa che cala dall'alto, ma è un'espressione del nostro amore, della nostra generosità. Papà non credeva nella Providenza, ma se questa pia bigotta signora gli avessi detto, Alfredo, oggi mi è arrivato un sacco di patate, io sono sola, ne tengo un po' lei per la sua famiglia, per il suo bambino, papà ci avrebbe creduto. Quindi, insomma, alla Providenza siamo anche noi, insomma, non è qualcosa che ci arriva dall'alto. Ecco, ma è compatibile con il libero arbitrio, insomma, la volontà di fare o non fare qualcosa, oppure no. E lo esige il libero arbitrio, perché tutto quello che viene dal Signore non limita l'intelligenza, la libertà delle persone, ma la esige la potenza. Ma c'è una condizione, perché molti prendono, quando si legge il Vangelo, non bisogna prendere la frasetta isolata dal suo contesto, perché è vero che Gesù dice non vi preoccupate per cosa mangerete, non vi preoccupate per cosa berrete, non preoccupatevi per cosa vestirete. Però bisogna andare prima. Gesù ha messo come condizione di essere generosi, non accumulare tesori, ma quello che hai condividere per gli altri. Allora, se noi, ecco, torna di nuovo la Pia Signora di prima, se noi ci prendiamo cura degli altri, permettiamo al Padre di prendersi cura di noi. Ma c'è questa condizione. Se noi non ci prendiamo cura degli altri, il Padre ha le mani legate. E la misericordia cosa c'entra in questo discorso? Cioè, fa parte dell'atteggiamento che noi dobbiamo avere verso gli altri? È questo? La misericordia è lo sguardo di tenerezza verso il bisogno dell'altro che ti fa superare ogni divisione, ti fa superare ogni difficoltà, ti fa superare ogni egoismo. Il Padre, Dio stesso, è misericordia. È una persona che faccia prevalere i diritti, faccia prevalere la legge, faccia prevalere le osservanze sul suo essere misericordia. Lo so, è una persona che ha rovinato se stessa. E purtroppo, purtroppo bisogna dirlo spesso, proprio le persone di chiesa sono le più dure, le più rigide. Sanno che potrebbero aiutare questa persona, ma la legge, l'ordinamento, il diritto non lo permette e lasciano che le persone soffrano. La legge prevale sulla misericordia. E Gesù, Gesù l'ha detto chiaramente, due volte c'è nel Vangelo di Matteo, c'è tanto se ha imparato cosa significa misericordia, voglio, non sacrifici. Non dobbiamo sacrificare le persone, ma fargli sperimentare l'amore misericordioso del Padre. Ma ci si può educare in questo? È un percorso che possiamo fare? Si può educare, ci si può aiutare attraverso l'imitazione. Chi sperimenta la misericordia sarà poi capace a sua volta di essere misericordioso con gli altri. Ma dobbiamo preoccuparci o non dobbiamo preoccuparci? La soluzione arriva in qualche modo o no? Queste patate verranno condivise con noi in qualche modo oppure no? Allora Gesù invita a non preoccuparsi, ma non significa di non occuparci. Gesù fa un esempio, dice guardate gli uccelli del cielo che non seminano, non miettono, non raccolgono e il Padre li nutre. Tradotto, quanto più voi che seminate, mietete, raccogliete il Padre se ne occuperà. Quindi non è un invito a un fatalismo, Dio provvede. No, è di nuovo questo dinamismo. Dio è presente qui con il suo amore. Se noi il nostro amore lo comunichiamo agli altri, ecco questo dinamismo di amore ricevuto e amore comunicato. Ma è tutto a nostro vantaggio. Dare non si perde mai. Più si dà, più si guadagna. Ecco perché i grandi, i santi lo hanno capito, perché si spogliavano. Non per un senso di ascettismo, di povertà, ma hanno capito il significato della vita. Più dai e più ti dai agli altri e più ricevi. Quindi è per un guadagno personale. E infatti è una delle frasi che lei dice più spesso, è che ne ha di fantasia il Padre Eterno, ma a volte anche esagera. Vale solo per lei, vale per tutti. C'è qualche esempio che lei ci può portare, qualche esempio concreto. Siamo immersi nell'amore di Dio, proprio inzuppati, impregnati. Perché lo percepiamo così poco. È una questione di braccia. Sono braccia piccole, braccia limitate, che non riescono ad accogliere la grandezza e la pienezza di questo amore. Allora ecco di nuovo ritorno e mi ripeto questo dinamismo di amore ricevuto e amore comunicato. Se noi siamo amorosi, misericordiosi, benevoli e condividiamo con gli altri, sperimentiamo cosa significa far parte di questo disegno, questo progetto d'amore. Ma quanto coraggio occorre per amare? Ma no, ce ne vuole di più a non amare. Perché se non ami poi non stai bene. L'amore è la spinta naturale dell'essere umano. Quando la Bibbia afferma che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Dio è amore. Per cui amare è andare secondo la natura. E' contro natura non amare. Conosciamo tutti persone che non perdonano. Allora questo rancore dentro di sé è come un cancro che cresce perché si nutre da se stesso, ingigantisce il male, il torto fatto. Sono persone che diventano brutte anche di faccia. Quindi non amare, essere avidi, essere egoisti, essere incapaci di perdonare, significa andare contro la propria natura, significa farsi danno. E qui mi viene in mente anche il capitolo introduttivo del suo libro Botte e risposte. Ritorna a questo tema. Lo sento tutti i giorni in televisione della luce in fondo al tunnel. Si intitola questo capitolo la settima sentinella. Ne abbiamo già parlato, però insomma alla fine questa luce siamo noi. Comunque la vediamo, il miracolo siamo noi. E di nuovo torna tutto proprio come quello che stiamo dicendo. Cosa diciamo noi di una persona che è generosa? Quale immagine prendiamo? Quella della luce, cosa diciamo? È una persona splendida, cioè emana luce. Questa luce, quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, e lui è la luce del mondo, non è una luce esterna che ci illumina, ma è la luce della propria persona. Quando noi diciamo che una persona è splendida, significa che è una persona generosa. Di un tacagno, di un avaro, non diremo mai che è una persona splendida, una persona tenebrosa. Invece la persona che è generosa splende la luce che ha dentro di sé. E questa luce, la luce è fonte della vita. Se non ci fosse la luce non ci sarebbe la vita sulla terra. Allora se noi siamo luce, alimentiamo la vita che è noi e la comunichiamo agli altri e realizziamo così il progetto che Dio ha su ognuno di noi. Essere luce per alimentare con la luce le altre persone. Non aspettare di essere inondati di una luce dall'alto che non si sa da che parte arriva, ma essere noi i primi a farci strada nell'oscurità. Lei anticipava il prossimo impegno del centro suddivirci che riapre, lo vogliamo ricordare, riapre il pubblico. Ecco, il 10 ottobre ci sarà il primo incontro, ma ci si potrà collegare anche online, perché abbiamo visto in questo periodo di pandemia che si è continuato a dialogare con chi non poteva essere in presenza. Per cui chi non potrà venire a Montefano avrà possibilità di seguire ugualmente quello che voi farete. Sì, riprenderemo dalla metà del mese, il giovedì alle 20, la lettura e commento del Vangelo in diretta su YouTube, sul canale Studi Bibli, tutto attraccato, e anche gli incontri mensili saranno trasmessi. Adesso dobbiamo un po' rivedere tutte le apparacchiature, perché si è tutto arrusinito in questo anno e mezzo di fermo, quindi dobbiamo un po' rivedere, faremo delle prove, ci vorrà pazienza. Comunque sì, anche gli incontri vengono trasmessi online, quindi possono essere seguiti dalle persone, anche perché questa volta bisogna prenotarsi. I posti a causa Covid sono limitati, quindi molti non potranno venire. Ci sono delle difficoltà iniziali, ma le difficoltà non solo non devono scoraggiare, ma devono stimolare la fantasia della persona per creare forme nuove di comunicazione. A proposito di comunicazione, io vorrei inviare, noi facciamo questi incontri tutti i primi lunedì del mese, insomma c'è sempre un suo messaggio agli ascoltatori di Radio Amnil Network. Allora questo mese di ottobre che comincia, sotto quali auspici c'è un messaggio in particolare che lei vuole dare per le attività che riprendono, non soltanto al centro, ma insomma in generale la scuola è cominciata, ma insomma tutti poi stanno tornando al lavoro, anche in presenza abbiamo visto, soprattutto nella pubblica amministrazione, insomma che cosa dire a chi si rimette in moto? Di rimetterci tutti in moto con gioioso, rinnovato entusiasmo, perché abbiamo fatto e facciamo l'esperienza, quello che diciamo sempre ormai è diventato un tormentone, che ogni evento, anche il più difficile, può diventare, se lo vogliamo, un'opportunità di crescita e un'occasione di ricchezza. Le avversità non devono rallentarci o schiacciarci, ma devono stimolare e far nascere forme nuove di espressione, e questo è possibile a tutti. Grazie frate Alberto.